Macrocategoria Imprese, categoria Health Care & Pharma. Andiamo a leggere il premio. Eccellenza dell'anno settore sanitario ospedaliero. E adesso subito la motivazione. Per la qualità, l'innovazione e l'efficienza produttiva che consentono all'azienda di soddisfare pienamente le esigenze del settore sanitario ospedaliero. Per la cura delle relazioni con i clienti e la forte tradizione nelle innovazioni scientifiche e tecnologiche. The winner is Nakatur International. E collegato con noi c'è Fabio Fabri, responsabile delle relazioni esterne. Grazie per essere qui. Grazie a voi, buongiorno. Le chiedo subito un commento a caldo di questo premio. Siamo molto onorati di ricevere per il secondo anno consecutivo, peraltro, questo premio prestigioso. E vorremmo innanzitutto ringraziare la redazione delle fonti, TV, il Comitato Scientifico per questo riconoscimento. Siamo particolarmente felici perché in questo particolare momento storico questo premio ha una valenza doppia. Insomma, un momento in cui si parla di pandemia, di Covid, Nakatur è in campo a fianco degli operatori sanitari per combattere, insomma, per cercare di arginare quello che è questo spaventoso fenomeno. Chi è Nakatur? Nakatur è un gruppo che si colloca tra i leader europei dei produttori nel campo della sanità e della produzione di dispositivi di protezione individuali, quale guanti, camici e siringhe. Noi siamo nati nel 1993 nel cuore delle marche, nel cuore produttivo delle marche e siamo protagonisti, fortunatamente, da quell'anno fino ad oggi di un'avventura imprenditoriale rimarchevole e meravigliosa, aggiungo io. Tutto nasce grazie al talento, anche all'iniziativa imprenditoriale della dottoressa Navarra, il nostro amministratore, la nostra fondatrice, che con grande determinazione ha creato un'azienda che è fondata principalmente su due concetti che per noi sono fondamentali. La ricerca, intesa come sviluppo dei prodotti, intesa come alta tecnologia, intesa anche come ricerca continua ed evoluzione di prodotti che hanno appunto un'applicazione sanitaria e anche l'ascolto dei clienti. Noi parliamo di un'eccellenza italiana perché NACATUR oggi è questo, che è sbarcata anche in Europa, aprendo anche delle filiali e altre sedi in Spagna, in Francia e in Germania, che comunque è sempre scesa in campo ascoltando le vere esigenze di coloro che usano i prodotti che noi produciamo. Quindi sono gli stessi operatori, gli stessi medici, gli stessi impiegati della sanità, coloro che utilizzano sul campo questi prodotti, a dirci quelle che sono le loro prerogative. Noi con questa realtà fatta di esperienze dei nostri clienti e di ricerche, di test elevatissimi, e di certificazioni siamo al loro fianco per cercare di proporre sempre un prodotto che aggiorni quelle che sono le conoscenze alle esigenze quotidiane e siamo coloro che testano tutti i prodotti certificandoli con quelle che sono le principali normative e certificazioni europee. Consideri che siamo la prima società in Italia ad aver certificato contro il rischio chimico e biologico i nostri dispositivi medici. Questo è una cosa della quale insomma ci facciamo vanno, poi è stata un pochino la nostra stella colare, quella che abbiamo sempre seguito negli anni. Nella motivazione mi ha colpito molto... Ecco infatti le volevo proprio chiedere questo, la interrompo solo perché alla luce di quello che ha detto assolutamente volevo riagganciarmi alla motivazione che è stata letta, perché ci sono proprio le parole chiave che poi lei ha già spiegato, che riguardano però un po', mi permetto di dire, la sfida per l'immediato futuro alla luce del contesto che stiamo vivendo. Esatto, allora questa NACATUR a me è una sensazione, i prodotti cambiano e l'azienda cresce, cioè in pratica affiancarci in quelli che sono le sfide attuali ci permette anche di essere, come si dice, dei leader, vale a dire coloro che sono sempre pronti grazie alla loro ricerca e talvolta siamo degli anticipatori di quelli che sono i progressi che vengono fatti nel nostro settore. In uno scenario delicato come quello che stiamo attraversando in questo momento la difficoltà era appunto quella di prevedere una proporzione, una pandemia di questa portata, ma già con la nostra esperienza passata che si rifà ai tempi dell'Evola piuttosto che alla Viaria noi già avevamo predisposto una, come si dice, un sistema di approvvigionamenti rinforzato e maggiorato proprio perché immaginavamo che da gennaio in poi ci sarebbero state delle conseguenze disastrose che tutti conosciamo. Noi siamo sempre una... In questo modo, no? Ecco. Prego? Dicevo, quindi proseguire in questo modo fondamentalmente, è il vostro obiettivo. Noi proseguiremo, sì, proseguiremo in questo modo. Noi abbiamo quella lungimiranza che poi ritroviamo nel nostro slogan, cioè la ricerca ci rende leader, che può sembrare uno slogan a fine a settimana, ma non lo è. Ok, no, no, assolutamente. Noi nel settore medico ospedaliero siamo così, dei punti di riferimento e cercheremo con le sfide prossime e future di esserlo sempre di più. Va bene, allora, insomma, questo è assolutamente di buon ospicio in generale proprio per la situazione che stiamo vivendo e che abbiamo rimarcato più volte nel corso di questo intervento. A questo punto grazie, io ringrazio lei, Fabio Fabri, responsabile relazioni esterne di Nakatour International e naturalmente tutto il team e complimenti per questo premio. Grazie, volevo approfittare per ringraziarvi nuovamente innanzitutto per questo bellissimo premio anche a nome della dottoressa Nalara, della nostra fondatrice che si trova in Spagna e che sta fronteggiando quelli che sono le nostre, diciamo, stesse priorità, le sta fronteggiando in Spagna, in Francia ed in Germania. Volevo anche aggiungere che questo non sarà un traguardo ma sicuramente un punto di partenza che cercheremo di affrontare sempre con l'umiltà, con l'entusiasmo e con la forza di un grande gruppo Nakatour. Grazie, insomma, grazie ancora e ci rivedremo il prossimo anno. Grazie a voi, assolutamente sì, complimenti, arrivederci. Grazie, di nuovo.